Spetterà ad una perizia psichiatrica stabilire se l'omicidio commesso da Clara Vannini sia stato un atto volontario o meno. La donna che dopo la convalida dell'arresto si trova nel carcere fiorentino di Sollicciano lo scorso 25 settembre uccisa a colpi di Mattarello e il marito Enzo Chianacci a Terra Nuova Bracciolini. Il delitto si consumò all'interno delle mura domestiche. La donna rimase per ore vicino al cadavere dell'uomo, fu infatti trovata assoppita sul divano dopo aver assunto farmaci. Il GIP del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli adesso ha affidato la perizia allo psichiatra Massimo Marchi che dovrà accertare le capacità di intendere volere della donna nel momento dell'omicidio. Come chiesto dalla difesa si svolgerà incidente probatorio. Il risultato dunque avrà valore di prova e sarà depositato il prossimo 19 febbraio. La difesa della donna attende anche l'esito dell'esame otoptico sul corpo dell'uomo per capire se sulla morte possano aver inciso anche le condizioni di salute di Enzo Canacci. Nei mesi precedenti era stato infatti colpito da un ictus chiedendo così la derubricazione del capo di imputazione in omicidio preterintenzionale. Al momento Clara Vannini sarebbe seguita e curata per una forte depressione che sarebbe iniziata prima di quel 25 settembre.